ciao a tutti benvenuti sul canale a new york con irene di new york welcome questo non era il video introduttivo al canale che avevo pensato e avevo in mente ma siamo in quarantena anche noi a new york oggi è marzo 20 ormai siamo a casa da qualche giorno e per la prima volta in vita mia sono sulle scale antincegno new yorkesi e adesso nonostante le mie vertigini adesso vi faccio vedere come sono la prima volta che si è riuscito a fare in mezzo ok nelle gaffe ciao Sorry, the guy just looked at me weird. Yes, but... Sorry. Wistolo, scatiamo. Why don't we do New Jersey? No, no, no.